Regole certe condivise, è quello che chiede l'amministrazione comunale ed è quello che chiedono oggi i gestori dei locali interessati in questi mesi dall'ordinanza che fissava paletti rigidi in termini di orari, emissioni sonore, somministrazione di bevande alcoliche. Se da un lato il comune puntualizza che l'ordinanza impugnata all'altar ha finalmente permesso di avviare e mettere in piedi un sistema di controlli che ha evidenziato come non sia per nulla difficile per gli esercenti rispettare orari e volume di diffusione musicale in modo da non arrecare disturbo, gli esercenti oggi vanno oltre. Non vogliamo certo una giungla, dicono, ma vogliamo essere coinvolti dall'amministrazione per scrivere insieme nuove regole, del resto sottolineano chi meglio di noi può avere voce in capitolo. Noi chiediamo di riaprire il dialogo su quelli che sono i temi che abbiamo sollevato, sui quali il Tarcio ha dato ragione. Noi mettiamo la nostra buona volontà, abbiamo dimostrato anche la nostra competenza e il comune, l'amministrazione ci ascolti. Siamo disposti a un incontro purché però l'amministrazione prenda atto che l'atto che ha emesso non è un atto corretto e che c'è stato un errore. Ognuno deve fare la propria parte per il bene della città. Terzo spesa l'ordinanza perché ha ritrovato fondati tutti i nostri motivi di doglianza. L'ordinanza era manifestamente legittima perché il sindaco non ha potere di agire in questa materia con coordinanze contingibili ed urgenti e quindi difettava sotto ogni profilo dei presupposti di legittimità e poi aveva un evidente difetto di istruttore e di motivazione. Ci ha danneggiato sin dal primo giugno che è entrata in vigore in maniera secondo me circa l'80% degli incassi e sono venuti a mancare, dico l'80% in quando sappiamo tutti, non per essere ripetitivo, staccando completamente l'impianto alla mezzanotte nei giorni feriali automaticamente un locale senza musica non ha nessun senso quindi la gente non rimaneva e andava via.